Un piccolo triangolo di verde pubblico in mezzo a tanti palazzoni abitati, uno sfogo ed una manna per mamme e bambini che in mattinate assolate nel pomeriggio portano i loro piccoli a giocare e a socializzare con altri coetanei. Se non fosse che, sedersi su una panca è praticamente impossibile, l'altalena per i più piccoli è inutilizzabile ed il cestino viene usato per metterci di tutto tranne che le cartacce, compreso il palo dell'insegna. Insomma, una situazione che i residenti denunciano da tempo al comune e vengono liquidati con il solito ritornello, no fondi, no manutenzione. L'altalena è rotta da diversi mesi, ci sono dei ragazzi che abitualmente sostano qua e che non usano i bidoni dell'immondizia anche se sono presenti, quindi c'è molta sporcizia, ci sono i vetri rotti, basterebbe poco per tenerlo meglio. Voi che ne usufruite vorreste che qualcuno ci mettesse mano? Sì, sarebbe bello, perché se venite a fare una ripresa al pomeriggio vedete che è pieno di bambini, anche perché di spazi verdi a Fano ce ne sono pochi, quindi se quelli che ci sono fossero tenuti in maniera decente sarebbe meglio per tutti, soprattutto per i bambini. Ma il triangolo verde non è il solo posto del quartiere lasciato al suo destino. A pochissima distanza dal fazzoletto di terra, in fondo a via tagliamento, una pista di pattinaggio mostra tutti i segni dell'incuria del passar del tempo, cancello di velto o assente, zone transennate e arrugginite se non addirittura sradicate e gettate da un lato e le erbacce che la fanno da padrona.